Oggi con voi vorrei vedere come la price action, per come la utilizzo e la cerco di trasmettere a tutti voi da tanti anni, è una metodologia, un approccio strategico al mercato, direi, universale. Cosa significa? Significa che il tipo di metodologie di approccio al mercato può essere valido oggi, era valido ieri ed era valido anche molto tempo fa. Io, se guardate i video di questo canale, dal 2010 sto facendo e dicendo le stesse cose e se andiamo anche più indietro di quel periodo, oggi ho euro-dollaro perché è uno dei mercati che trado di più, ma potremmo farlo anche sullo standard and poor, sul DAX, sul gold, sul petrolio, su dollaro yen, dove volete, e noterete come l'approccio metodologico non cambia. Io le cose che facevo 15 anni fa le faccio ancora oggi e con la barra casuale che ci permette TradingView magari ci farà andare indietro anche di più tempo e vedrete che le cose non sono cambiate. Utilizzerò un approccio multi-time frame, weekly, daily, 4 ore, proprio per far vedere come le cose non cambiano. Ci sono strategie che hanno al loro interno moltissimi indicatori, oscillatori, tutte queste cose poi anche nuove che vengono fuori, ogni periodo storico ha sempre nuovi indicatori, nuovi strumenti per cercare di migliorare la propria operatività. Io sono cose che non utilizzo, che non utilizzerò mai perché so leggere il mercato, perché le cose che fa il mercato, essendo del mercato molto psicologia, le continuo a fare. Il mercato è fatto da esseri umani e anche se sono degli algoritmi o dei sistemi automatici, sono sempre creati dall'uomo e funzionano sempre nello stesso modo. Usando time frame alti come il weekly per la pianificazione, il daily e il 4 ore per l'operatività, si riesce comunque ad avere veramente un quadro eccezionale di quello che il mercato ci dice e quindi fare le azioni più funzionali all'obiettivo, ovvero di fare profitto sui mercati. Oggi la price action si è anche un po' inflazionata, in questo canale avete sempre sentito parlare della pura price action. Io in Italia sono stato, possiamo dire, il precursore, il primo a spiegare alcuni concetti. Oggi anche per probabilmente tecniche di marketing si cambiano alcuni nomi, alcune diciture, ma alla fine non cambia nulla. La price action è la price action e la realtà è che le false rotture, i punti dove spesso la gente, la massa posiziona gli stop, sono i punti migliori dove vendere o comprare. È l'approccio più interessante, più anche semplice che si può utilizzare per fare trading. Oggi cercherò con voi di andare indietro nel tempo e di vedere anche come anni e anni fa, in maniera totalmente proprio freestyle, improvvisata, qui senza avere preparato nulla, possono essere efficaci. Praticamente andare a prendere un replay, andando indietro nel tempo, di euro-dollaro. Quindi facciamo replay, andiamo casualmente, quindi tutto molto improvvisato, non ho guardato ovviamente. Ok, qui stiamo a settembre 2008. Oh, benissimo, settembre 2008, quindi più di 15 anni fa. In questo momento il weekly, guardate, è così, quindi noi andremo proprio a fare un'analisi completamente come la faccio oggi, però 15 anni fa tutto funziona. Le tecniche operative di osservazione del mercato della struttura della price action rimangono le stesse. Se si impara a leggerle, rimangono le stesse. Allora, prendo alcuni livelli sul weekly, più importanti. Mercato che è assolutamente short. Se ci sarà la possibilità vado anche su quattro ore, eh. Guardo proprio tutto bene. Questo è il daily, molto molto short. Martedì, quindi andiamo avanti fino al venerdì. Perché avevamo già, ok, abbiamo già visto il weekly, quindi finiamo e concludiamo. Il weekly, quindi un movimento molto bello qui, probabilmente ci sarebbero state delle cose da fare. Andiamo a vedere se ci fa vedere quattro ore, non so se così indietro nel tempo. Ci va? Sì, guardate, qui c'era una cosa super interessante, bella, che si poteva fare. C'era stato un recupero dell'area. E quindi andare a vendere questa situazione. Però, beh, va bene, va bene. Allora, adesso come adesso, quindi stiamo a venerdì, quindi è finita la settimana. Il settimanale l'abbiamo visto. Il daily è molto short, quindi ripartiamo la settimana. Andiamo direttamente proprio su quattro ore a vedere un po' quello che succede. Prima area, zona importante diventa questa, sempre per degli short. Bene. Eh, eh, questa è una super falsa rottura, che si viene a creare lunedì 8 settembre, su grafico a quattro ore, su una tendenza assolutamente short, che io in questo caso andrei a vendere. Vediamo un po' come fare per vendere qui. Abbiamo dei livelli più sotto, magari? Sì, abbiamo un sacco di livelli più sotto, ne abbiamo uno importante qui, lo segnerei proprio, anzi, andrei a segnare delle zone. Vabbè, facciamolo con il livello, perché sennò poi diventa anche difficile. Questa è una zona, e questa è un'altra zona, e poi abbiamo le altre zone sotto, però l'idea è quella di portarlo giù. Questa è un FTV Power, direi che si potrebbe lavorare in vendita con un ordine sell limit, andando a metterci su questa zona, e spostandoci con lo stop, lo metterei tenendo, essendo già una falsa rottura non serve tenersi chissà dove, la volatilità è molto alta. Metterei un target proprio ultimo, grande qui, e la gestirei in trailing stop di base. Quindi, vediamo un po', abbiamo detto a lunedì, vediamo se mi eseguo il buy limit intanto. Buy limit andrebbe se mi prende qui, eh. Al momento va solo giù, quindi scende e basta. Benissimo, va bene. Detto questo, però, guardiamo quello che è successo. Mercato, falso, tac, movimento. Adesso, se per esempio avessi venduto qui, direttamente a breakout, qui andrei a stoppare in trailing stop. Quindi se spara su, comunque. Il concetto di questo video è osservare come i comportamenti e le dinamiche di prezzo sono sempre le stesse sui mercati. Ok, ok, non faccio nulla qui. Stiamo a martedì alle 11. Martedì alle 15. Questa era un'area dove si potevano ritornare, potevano ritornare gli acquisti. Questa alle 19. Vediamo un po' come chiude il daily. Eh, il daily chiude pesante, dopo questa tail bar doppio massimo lower, che l'avevamo già, noi l'avevamo capita direttamente a 4 ore. Barra piccolina, si potrebbe vedere un ulteriore sgancio giù, eh. Qui. Quindi rimango in ottica short, rimango in ottica short, questa potrebbe essere una super falsa rottura. Cioè questa inside, dopo questa trap bar, diventa una falsa rottura. Aspetto un attimo. Ok. Non faccio nulla. Avevo idea di vendere questa parte, però eravamo troppo su questo minimo. Ne si poteva stare un rimbalzo, quindi aspettavo. Aspettiamo. Allora, adesso l'area di vendita principale resta questa. Questa è l'area dove potremmo rivedere degli short. Vediamo il daily come chiude. Daily chiude verso l'alto. Con una pinbar, piccolina però. Molto molto verticale, il movimento sembra voler recuperare, quindi stiamo un po' attenti. La zona short è questa qua. No, chiude così, il weekly chiude con una barra di indecision. Questa barra di indecision potrebbe far recuperare i prezzi, anche abbastanza rapidamente. Questo vuol dire che in settimana potremo anche attenderci, vedete anche il daily, un recupero long, un recupero verso l'alto. Quindi siamo aperti a entrambe le situazioni. Nell'ottica long, in questo momento, il punto principale da comprare su euro-dollaro è questo. Questo è il punto di swing, dove in effetti si possono creare degli acquisti. Quindi se si scende e qui fa un long, si potrebbe lavorarci. Sale, sale, crea qualcosa qui, va bene. Scende sull'area chiave. Questo è un lunedì. Allora, questa dinamica è una dinamica di falsa rottura di questo livello, però c'è stato un grande movimento di rialzo. Quindi in generale non lo amo molto. Diciamo che rimango ancora come idea long qui, nel breve. Anche se questa è una falsa rottura di questo livello, potrebbe portare un po' più giù. Nell'ottica di trading aspetto. Bene. Allora, ha creato lo swing, quindi adesso il punto da comprare, principalmente, rimane qui. Quindi stiamo alle 7 del martedì. Interessante. Interessante perché ritesta qui e recupera. Quindi questa dinamica che fa movimento, ritest, crea lo swing e rientra dentro e crea una mini pin, mi permette di comprare qui sopra, stop qui, e provare ad andare un po' più sopra e cercare magari addirittura un obiettivo su questi massimi. Però lo seguirò comunque in trelin stop in questo momento. non mi esegue al momento, vedete, non prende il buy stop qui sopra, quindi al momento tolgo l'ordine. area long. Bellissimo. Questo è bellissimo, molto meglio di questo, perché swing anche sul livello di minimo. Quindi vado a comprare nuovamente, cioè vado a mettere un ordine pendente, buy stop sopra questo massimo. Lo stop non serve troppo grande, perché? Perché in questo caso c'è una falsa rottura molto chiara, quindi non serve mettersi troppo giganti con lo stop a raccadute. Mi metterei così, sempre su questi livelli, perché iniziano ad esserci livelli daily importanti e weekly qui, e l'andamento è più short. Quindi compro ma gestirò in trelin stop con attenzione ovviamente a questo. Questo sarà un'area dove prendere profitto. Vediamo. Non mi esegue, ma tengo l'ordine pendente, perché è un inside, può portare boost. Mi ha eseguito, molto bene, mi ha eseguito l'ordine, long. Rientra, rientra, fa un ulteriore spike e boom, parte il movimento. Quindi al momento l'area long rimane area long, dà un'ulteriore conferma, fa la sparata. La sparata, vedete, arriva proprio in area 1.4320, dove avevo il mio livello. Quindi qui è molto interessante valutare uno stop modificato. Quindi sposto il mio stop piccolino sotto i minimi della barra bianca e vediamo se ne ha un po' ancora. Ok. Sposto nuovamente sotto i minimi. Adesso il mio stop è uno stop profit. Me lo vado a spostare direttamente. Non so se si possa fare così. Sì. Quindi mi sposto sotto questo minimo e tento andare qua. Quindi ho comprato qui. Il mio stop è profit. Quindi da 1.4217 a uno stop profit a 1.4275. Mantengo lo stop profit. Vengo preso. Vengo preso lo stop profit per poi vedere il mercato che riparte. Può succedere? Benissimo. Porto a casa questi, non so quanti punti siano, 56,7. Quindi me lo segno. Ma è tanto per farvi capire un po' il tipo di testa. E qui fa addirittura un ulteriore, come dire, qui sono uscito, dinamica long. Però siamo vicini a questo livello. Quindi rimango fermo e aspetto. Qui ti fa la spike verso l'alto. Quindi se non fossi uscito qui, su questa, probabilmente o mi sarei messo qua sotto, sarei uscito su questa zona, molto probabilmente. Ok? Questa è una spike. Stiamo alle 11. Sto un attimo a guardare, cosa che mi aspettavo. Tiene però. Quindi adesso il livello acquistabile per l'euro in questo momento è questo. Questa zona. Questo è 15. 19. Andiamo a vedere il daily. Il daily, vedete, fa 1, 2, 1, 2, quindi fa anche una pinbar. E quindi questo potrebbe essere un ritorno short. Potrebbe essere un ritorno short. A questo punto, per valutare la forza di questo short, vediamo cosa succede su queste zone. Aumenta la vola. Quindi la dinamica è quella di cercare nuovamente degli short. Bene. Bene. Annula tutto. Va bene. Allora, area long. Togliamo via un po' di cose. Questa sicuramente è una zona dove adesso ci va per la 1, 2, 3, quarta volta. Quindi adesso quella zona qui era una zona long. Anche fino a sotto è zona long. Vediamo. Vado abbastanza veloce. Parte subito e va diretto. Parte subito e va diretto. Non c'è nulla da fare. Stiamo alle 19. Vediamo il daily come chiude. Chiude long. Forte. Guardate, bellissimo. Bene. Andiamo a vedere sempre. Sempre per farvi capire le dinamiche. Adesso ovviamente cerchiamo dei long. Cerchiamo un punto in cui lui si ferma. Ok. Allora, vediamo se su questa zona lui crea una qualcosa di long. Su questa mini falsa rottura. Ok. Ok. 7. 15-19. Finiamo la settimana in questo modo. e andiamo a vedere il daily come chiude. Il weekly come chiude. Quindi il weekly è andato a ritestare quest'area. Vi ricordate eravamo qui e c'era spazio. È andato a ritestare l'area sell. Qui viene venduto. Il daily è comunque tranquillo. Tiro via un po' di cose. Diciamo, rimarrei sia short che long. Vediamo un po' cosa fa un po' sulle zone chiave. Allora, uno short su questa zona potrebbe essere vendibilissimo. Come potrebbe essere long una falsa rottura di questi minimi? Almeno inizialmente. Rompe sotto? No. Rompe sotto, quindi rimango più short adesso. Vado abbastanza rapido quando non ci sono le dinamiche da valutare. Questo alle 19 va a ritestare il livello, ma non mi interessa. Vediamo un po'. Ok, adesso sì, mi interessa. Mi interessa perché adesso tutta quest'area è un'area sell. Scende e basta però. Scende e basta. Va bene. Ok. Doppio massimo lower. Insight fake out, alle 11. Qui era una zona sicuramente importante. Il ribasso c'è stato ed è super pesante. A quel punto direi di andare a valutare uno short assolutamente. Lieve ritracciamento. Andrei in lieve ritracciamento. Uno stop abbastanza ampio in questo caso, perché c'è spazio per false rotture in questo caso. Non è la prima. E andrei a provare a prendermi questo. Vedete? Questa è una dinamica di continuazione. Come lo poteva essere questo? Però per come l'aveva strutturata è il minimo importante. Mi dava l'idea che poteva un po' ritracciarla di più. In questo caso invece arriva pesante. Quindi sell limit su un lievissimo ritracciamento. Stop ampio per evitare false rotture. Anzi, le false rotture mi farebbero incrementare. Target buono. Vediamo. Mi prende. Mi esegue. Ok, andiamo avanti. Stiamo alle 3. Bene. Adesso mi metto a break even con la posizione leggermente in profitto, direi. Anzi, qui sopra. Un leggero profitto e valutiamo. Bene. Mi metto ancora in profit qui. Target qui. Vediamo se lo prende. Mi risposto nuovamente lo training stop. Rimango lì. Ok. Mi risposto ancora un pochino col training stop. Quindi se spara qui, porto a caso un profitto. Vediamo se va a target. Non ancora. Mi prende il training stop. Quindi prendo, abbiamo detto... Aspetta. Perché non si capisce bene qui. 162. Però. Ma prima che fossero 50 allora quei punti. Boh. Vabbè. Più 164. Quindi vado a prendere il mio daily e gli dico a più 164 nel secondo trade. Diciamo, no? Sempre nell'ottica di... Non so se ho contato bene prima i 56,7 pips. Forse sì, ma non ne sono convinto. Comunque vabbè. Era comunque un profitto. Eccolo qui. Quindi più che altro per farvi capire le dinamiche, vedete, sono sempre le stesse. Se si sa leggere il grafico, weekly, daily, quattro ore. Io sono andato su un quattro ore, ragazzi. Non cambia nulla. È questo. Quindi 7. Qui si sta fermi. Ok. Questo è un 19. Andiamo a vedere come chiude il daily. Adesso il daily, vedete, è bello spinto. Siamo arrivati sul livello importante. È vero che c'è un ribasso, però potrebbe essere più... La voglia del mercato di salire potrebbe esserci. Ha fatto questa indecision, quindi potrebbe ripartire. Quindi rimango aperto ad entrambe le situazioni. Soprattutto un long se fa una falsa rotta di questo minimo. Lo short lo terrei un po' più in alto. Quindi non su queste zone, ma più in quest'area. Intanto vediamo come va. Rompe il minimo. Che giorno è questo? Lunedì. Rompe tutto. Quindi non fa nulla. Vado via velocino. Ok. Stiamo alle 19 del martedì. Mercato che forma un inside di esaurimento, diciamo. Questa potrebbe essere una buona power per andare nuovamente a prendersi questo livello. Vista la chiusura. Però ho bisogno di una conferma maggiore, sinceramente. Aspetto. Eccolo lì. Ok. Allora. Mi fa un doppio massimo tecnico con un ulteriore pinbar. Faccio questo. Posizione short. Qualora mi rompa i minimi. E vi faccio vedere anche dove. Quindi un po' più spazio. Stop abbastanza strettino in questo caso. Target piccolino. Non c'è tanto spazio sul livello. Non mi esegue. Rimango col trade con l'ordine pendente. Non mi esegue. Rimango con l'ordine pendente. Non mi esegue. Vediamo se adesso mi esegue. Non mi esegue. Tolgo l'ordine. Quindi non sono stato eseguito. Se dovesse qui fare un ulteriore spai cone. Vendo. Altrimenti aspetto il rialzino. Addirittura potrei comprare quel livello. Interessante. Provo la vendita. Qui sotto. Stop in questo caso. Strettino. Perché la falsa rotura me l'ha già fatta. a target sempre lì. Gestendolo in trailing stop. Sell stop sotto i minimi. Non mi ha eseguito ma rimango col trade. Mi ha eseguito. Mi ha eseguito. Vediamo un po' che succede. Ok. Adesso che fa questo. Sposto il mio stop sullo swing massimo qui. Quindi rimpicciolisco lo stop. E vedo un po'. Bello. Mi posso andare a mettere a break even. Quindi rischio zero. E gestisco la posizione. Wow. Bellissimo. Target di profitto. Che è di 284 pips. In qualche ora. Stiamo parlando di un... Di un sei... Di un quattro ore. Venduto il giovedì. Preso profitto il venerdì. Quindi vi ho detto quanti più 284 pips. Andiamo a segnare anche questi. Lo siamo risultati con tanto bene o male quello. Sapete che forse la prima che avevamo fatto erano più pips. Adesso che mi viene in mente. Il range me lo dava sbagliato. Però vabbè. Comunque sono sempre stati abbastanza pips. 56,7. Quindi facendo un calcolino così rapido. Con qualche operazione a quattro ore. A quattro ore. Guardando l'analisi daily e weekly. Price action che facciamo noi. E che spieghiamo da tanto tempo. Nel ben lontano 2008. In tre operazioni. Durata uno, due, tre giorni al massimo. Abbiamo fatto 57 pips. Più 164 pips. Più 284 pips. Abbiamo fatto 505 pips. Si poteva anche andare a break even o a stop in qualche posizione. Adesso in questo caso tutte sono andate bene. Abbiamo cercato di capire bene la price action. Però bene o male è così ragazzi. E vedete. In maniera totalmente semplice e chiara. Si vanno praticamente a fare una valanga di pips. Con operazioni molto semplici. Ascoltando il mercato. Senza bisogno di indicatori oscillatori. Volumi. Adesso ce l'hanno. Cos'è? Order book. Questo è il book. E quell'altro book. L'avete capito? Vecchia scuola ragazzi. La vecchia scuola paga. Io vi saluto. Vi auguro un buon trading simple. Se volete mettere un mi piace bene. Altrimenti va bene lo stesso. Se volete commentare mi fa molto piacere. Se volete iscrivervi bene. Altrimenti va bene lo stesso. Io vi ringrazio e vi saluto. Ciao. Da me e da Airforex. Un saluto. Grazie a tutti.